Questa mattina in tutto il decimo municipio si sono tenute le manifestazioni dedicate alla festa della liberazione. Quest'anno le iniziative sono state anticipate di un giorno per consentire una maggiore partecipazione delle scuole. Come da tradizione sono state deposte corone dall'oro presso la stele in omaggio ai caduti di tutte le guerre, presente in corso Regina Maria Pia ad Ostia, in piazza Umberto I ad Ostia Antica e in piazza dei Sicani ad Acilia. Presente la presidente del decimo municipio Giuliana Di Pillo. L'evento però non ha trovato tutti d'accordo. Il consigliere di Casa Pound Luca Marsella ha rifiutato l'invito a prendere parte alle celebrazioni. Non posso partecipare ad una giornata di odio e divisione che per quanto mi riguarda deve essere abolita. Festeggiamo piuttosto il Natale di Roma all'Unità Nazionale, si legge sul suo profilo Twitter. Infine domani 25 aprile alle 17 presso il Centro Anziani, lo scariolante di Ostia Antica, sarà proiettato un filmato che rievoca il periodo della Seconda Guerra Mondiale con le testimonianze di persone del nostro territorio.